Noi non siamo disponibili a tradire la volontà popolare. I cittadini quando hanno votato il Movimento 5 Stelle hanno votato un candidato premier, una squadra di governo e un programma. Qui non si parla di Lega, PD, Forza Italia, l'EU. Noi abbiamo sempre detto che oggi il Movimento è inevitabilmente proiettato al governo del Paese e gli altri che vogliono farsi avanti vengano con proposte, non con posti nei ministeri, posti nei viceministri, nei sottosegretari o metti un tuo uomo qui, togli il tuo. Non sono dinamiche che ci appartengono e non appartengono neanche agli italiani. Mettere gli italiani al centro significa interlocuzione con tutti sui temi e su questo non ho visto avanzare ancora neanche una proposta.